Grazie a tutti. Il convegno Il Respiro della Mente al Palazzo delle Opere Sociali e lo spettacolo Il Respiro della Scienza al Teatro Astra, rispettivamente alla mattina e alla sera di sabato 8 ottobre, e il concerto con Bepi De Marzi e i polifonici Vicentini alla chiesa di San Gaetano alle 20.45 di domenica 9 ottobre. Già esauriti invece i posti per lo spettacolo Il Respiro dei Bambini, in programma nel pomeriggio di domenica 9 all'Astra. Infine, alle 18 di venerdì 7 ottobre, nella sede della Fondazione Zoè in Corso Palladio, verrà inaugurata la mostra Le Torri dell'Area di Michele De Lucchi, che sarà poi allestita in Piazza dei Signori dal giorno seguente fino al 3 novembre. Vediamo perché è importante partecipare a questa iniziativa. Perché del respiro non ci occupiamo mai se non quando ci manca. Noi vogliamo fare cultura, vogliamo fare prevenzione, vogliamo fare consapevolezza della propria salute, del proprio stile e della propria qualità di vita. Pensare al respiro anche quando non è associato alla malattia è un modo per fare tutto questo.